Ciao a tutti e tutte, rieccoci per un nuovo entusiasmante episodio di Capsule e film per le generazioni future. In questa seconda stagione esploriamo i miei film preferiti di sempre, 5 per ogni categoria da me scelta, e la categoria di oggi mi mette sempre di ottimo umore, musical. Non tutti sono fan di questo genere, ma a me non importa, perché secondo me i musical sono un concentrato di entertainment a 360 gradi, energia, talento e io amo i musical. Ho l'impressione di iniziare ogni episodio dove parlo di musical allo stesso modo, devo riascoltarmi. Estate del 1940. Tre bambini vengono mandati in campagna per proteggerli dai bombardamenti che stanno tormentando Londra. Vengono affidati a una giovane donna che le accoglie malvolentieri a casa propria. La signora ha infatti un compito da svolgere e non ha molto tempo da perdere dietro dei bambini. Deve infatti diventare una strega e aiutare le forze alleate a vincere la guerra. Pomi d'ottone e manici di scopa è uno dei classici Disney più famosi e amati della storia. Angela Lansbury ne è la protagonista e, come vi ho già detto, lei è una delle attrici che più ho amato nella mia vita. Questo è il secondo film in questa stagione che la vede protagonista. Sarà l'ultimo? Chissà. Il regista è Robert Stevenson. Ed è anche il genio a cui dobbiamo Mary Poppins, Herbie un maggiorino tutto matto e anche il suo seguito, il maggiorino sempre più matto e soprattutto FBI Operazione Gatto, il meno famoso. Ma oddio quanto mi piace, andate a guardarlo subito. No no, veramente, ci sentiamo tra un'ora e mezza, forza, mettetemi in pausa, a dopo. Vi è piaciuto? Io, oddio quel gatto, è una meraviglia, veramente troppo bello quel film. Torniamo invece al nostro Bat Nobs and Brimsticks. Questo è il titolo originale, per una volta non stravolto, ma è proprio così. Pomi d'ottone, anzi, pomi del letto e i manici di scopa. Allora, la colonna sonora. Affidata ai fratelli Sherman, due grandissimi che hanno scritto tantissimo e benissimo per decine di film Disney e non solo, tipo Mary Poppins, ma soprattutto Erwin Kostel. Il premio Oscar, dietro Westhead Story e Tutti insieme appassionatamente. Un grandissimo, veramente. Questo film ha molte cose in comune con l'altro capolavoro del suo regista, Mary Poppins. Oltre a condividerne uno degli attori principali e parlare di una signora con poteri magici che deve gestire dei bambini un po' difficili, mischiare animazione e live action e ogni tanto ballare e cantare a caso, la sua produzione è intrecciata con quella della Mary. Infatti, questo film andò in preproduzione prima dell'altro, visto che Disney non riusciva a convincere l'autrice dei libri a dare i diritti, ma lui la ingannò e fece un film sì bellissimo ma completamente irrispettoso del materiale originale e inserì praticamente tutto quello che la poveretta non avrebbe voluto. No, vabbè, non appena il bieco Walt ottene i diritti della Poppins, la nostra Eglantine venne messa da parte e ripresa anni dopo. Riciclando persino una canzone scartata da Mary Poppins, riciclando persino una canzone scartata dal film della tata Pazzarella. Infatti, la canzone che in Pomido Ottone viene cantata nella laguna doveva essere in Mary Poppins. Ma, vabbè, ma non solo. Julie Andrews era la prima scelta per il ruolo di Eglantine, ma rifiutò per poi a campione idea, ma oramai era tardi, Julie, insomma. Perché io lo considero fra i miei musical preferiti? Allora, alcune delle canzoni sono dei capolavori assurdi, innanzitutto, tipo The Beautiful Briny, che ogni volta fa venire voglia di ballare e cantare, e poi The Age of Not Believing è davvero una vera perla. Della Lansbury non parlo ancora, perché sapete quanto la consideri superba in qualsiasi ruolo. Cosa adoro di questo film è il tocco di follia che ha. E amo l'umanità dei suoi protagonisti, una donna un po' egoista che vive felicemente da sola e non ha un grande senso materno e un truffatore. I bambini sono piuttosto maleducati e capricciosi, in modo comprensibile comunque. Ogni cosa succede in modo assurdo, divertente, leggero, magico, singolare. Pomi d'ottone, il manici di scopa è una cura per il malumore e un sicuro portatore di sorrisi. La morale di questo film è la ricerca in se stessi della bellezza, della sicurezza necessaria per essere persone complete. Ed è quella la magia più grande, la sola della quale abbiamo davvero bisogno. E citiamo il testo di The Age of Not Believing. Quando ti giri e ti rigiri senza speranza, cercando ovunque qualcosa di vero, sei nell'età di chi non crede. Quando tutta l'affinzione è finita, quando metti da parte i tuoi re di infanzia, i tuoi sogni sono lì, persi su uno scaffale. Sei nell'età di chi non crede. E la cosa peggiore è che dubiti anche di te stesso se un naufrago dove nessuno ti sente su un'isola sterile, in un mare solitario. Dove sono finiti tutti i lieti fine? Dove possono essere tutti quei bei momenti? Devi affrontare l'età di chi non crede, dubitando di tutto ciò che hai mai saputo. Finché alla fine inizierai a credere che c'è qualcosa di meraviglioso ed è dentro di te. Con queste bellissime parole io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi auguro di credere in voi stessi sempre e di continuare a guardare cose belle, belle, bellissime. E se non sapete cosa guardare, ascoltate il mio podcast e vi do un sacco di bei suggerimenti. Ciao!